buonasera a tutte e a tutti sono molto onorata felice ed emozionata di presentare edith brooke e il suo ultimo libro il pane perduto è perché temevano che il loro gesto venga magari criticato un nazista più crudele o più cattivo e quindi lui faceva finta di essere molto cattivo e mi ha gettato con violenza proprio davanti questa gavetta urlando non dicendo la vala ma urlando proprio io per me potevo urlare poteva gettare anche molto più forte a me interessava una sola cosa di guardare dentro questa gavetta io speravo che sui lati potessi leccare un po di marmalata in qualche maniera o qualcosa e quanto ho visto la marmalata sotto ed era la vita la luce la speranza nel mondo nella bontà della umanità degli uomini che non è tutto perduto non è tutto nero voglio dire che un gesto così che questo era il terzo gesto di luce che il papa francesco ha letto e ricordava a me ognuno